E' un'altra parte di questa prima volta che la città è la prima volta che la città è stata scusata. Te la posso tagliare quasi al 50. Ti dico per carità, la pizza in Colombia mai! Ma questa me se mette di traverso. Oh, è che te devo dire? Allora mangiamo questa pizza. Ti va la servita? Oh, che ricco! Questa è la comida favorita di Julio, da quando ero piccolo. Vedete che in Colombia è differente questo tipo di arepa? Fammi fare il corriere. Sto bene così. Sto bene così? Sì, stai bene così. Ma... questi. Signora, da dove arriva lei? Sono colombiana. Deve venire in centrale con noi. Se è semplice controllo, fate il suo controllo e basta! Questo passaporto è fatto con trafatto. Magdalena Galvan se chiama. Sono il figlio cazzo, lo saprò. A me basta che lo dice a te. Che devi fare con quello, amore? Hablar con Lucho, hice para Colombia. Pa' donde crees che te vas a ir, pedazzo di jueputa? No! Guardalo! No, 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 no. No, 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 no.